Oggi, porca miseria, hai 87 anni e il tuo lavoro non ha assolutamente sentito questo invecchiamento. Ecco perché dico, come fai a sentir peso? Dove lo senti il peso? Quando per esempio ti metti a contare agli amici che non ci sono più e ne conti tanti, cominci a sentire un peso. Poi ti senti anche dei pesi fisici, entrando in un mondo un po' più annebbiato, un po' più ovattato. Anche questo è un peso.